Gli scrittori Nicola Troilo e Pierluigi Pranzitelli hanno dato alla luce Cose di Termoli, terzo libro della collana La città svelata, ricerche storiche, aneddoti e racconti sulla città adriatica. Cose di Termoli è il terzo libro facente parte della collana La città svelata, dove vengono raccontate tramite minuziosi ricerche storiche da parte degli autori che offrono delle notizie, delle autentiche chicche sulla città di Termoli e non solo, che più risultavano anche sconosciute. Leggere ed avere nella propria biblioteca questa collana di libri sulla città termolese è davvero molto interessante ed apre molte prospettive meritevoli di essere approfondite. Ricordiamo che l'associazione Andrea Di Capo, costituitasi nel settembre del 2012, si propone di contribuire al recupero, alla tutela e alle avaliorizzazioni del patrimonio culturale della città di Termoli. Il titolo già lo dice, sono fatti, fatterelli, aneddoti. Diciamo che è un po' diverso questo libro dagli altri, perché mentre gli altri avevano una linea, partiva col titolo e tutti gli articoli trovati che trattavano di questi argomenti erano i più disparati, c'era un po' di tutto. Invece questo, diciamo sempre, le notizie provengono dai quotidiani del tempo, quindi già di più di cento anni fa, e sono cose che effettivamente non sono mai venute fuori prima della nostra ricerca. Quindi stanno rinchiuse lì, nella biblioteca di Campobasso, negli archivi di Stato, nella biblioteca di Larino e nella biblioteca di Termoli. Bisogna trovare persone coraggiose, come noi, affamate della storia sconosciuta della nostra città, che con tanta passione vanno lì e si mettono per mesi ed anni a scartabellare e a cercare. La vera storia sta nascosta negli archivi di Stato, nelle librerie, insomma bisogna andarli a trovare, i veri fatti che sono successi in questa regione e soprattutto in questo paese, perché essendo un posto, diciamo sulla costa, è un posto di frontiera, quindi già duecento anni fa e per tutti i secoli precedenti, Termoli, posto di frontiera, era, voglio dire, faceva gola a tutte le parche che passavano davanti al porto di Termoli, che ancora in effetti non c'era, ed erano gente che veniva dalla Jugoslavia, ed erano gente all'Albania, ed erano gente affamata che venivano sulle coste italiane per predare tutto quello che trovavano, riuscivano a predare, sia dalle barche dei pescatori, che spesso dovevano fare delle grandi fughe e venivano inseguiti da queste barche jugoslave, diciamo così, ma tutto succedeva per la fame, perché era gente che si spostava dalla costa d'Almata e affrontando rischi della traversata, con barche abbastanza pericolose, diciamo, perché dovevano attraversare tutto l'Adriato, quindi rischiavano la vita, però erano spinti a queste imprese proprio per necessità, per vivere, per sopravvivere, ecco. E quindi Termoli, la posizione strategica di Termoli, al centro dell'Adriato, con tutte queste isole d'Almate di fronte, era un, diciamo, un boccone prezioso per queste persone affamate, ecco. Grazie. Grazie. Grazie.